Un gruppo di studiosi provenienti dalla Shanghai, Tongji University, all'interno di un articolo pubblicato sulla rivista Mather, hanno rivelato come funzionerà la mascherina anti-covid del futuro. Arriva dalla Cina, appunto, e sarà una vera e propria mascherina smart, dotata di un sensore in grado di rilevare la presenza di infezioni o di virus nell'aria. Ci è reso possibile grazie alla presenza di un gel, grazie al ritmo del respiro. Inoltre, il dispositivo di protezione intelligente preleverà i campioni che saranno analizzati in tempo reale. Dieci minuti e chi indossa la mascherina riceverà un messaggio sul proprio smartphone con la risposta. Uno degli autori dello studio, Ying Fang, ha spiegato che funzionerebbe molto bene in spazi con scarsa ventilazione, come ascensori o stanze chiuse dove il rischio di essere infettati è alto.